Buone notizie dall'Irpinia sul fronte coronavirus. Nella tarda serata di ieri il sindaco di Senerchia, Beniamino Grillo, ha reso noto che sono risultati tutti negativi gli esami sierologici e i tamponi ai quali sono stati sottoposti i familiari e i contatti della donna. Risultata positiva al rientro dall'Albania, suo paese d'origine. Una notizia che rasserena sia gli interessati che l'intera comunità, scrive il primo cittadino, ma che non deve far abbassare la guardia. Utilizziamo la mascherina nei luoghi chiusi, manteniamo la distanza di sicurezza ed evitiamo assembramenti sia a luogo pubblico che privato. Dunque, una buona notizia che va ad aggiungersi a quella di sabato scorso, quando il sindaco Vito Pelosi ha comunicato che Serino è covid-free dopo i due tamponi negativi delle sei persone che erano risultate positive al virus. Una guarigione anche a Santa Lucia di Serino, dove si attende l'esito del tampone effettuato alle altre cinque persone sabato scorso, mentre il settimo contagiato, ovvero il 69enne venezuelano, residente del Comune Irpino, resta ricoverato al covid ospita della città ospedaliera ed è l'unico caso in provincia di Avellino ad essere ricoverato. L'Irpini, inoltre, può tirare un sospiro di sollievo. Ieri nessun nuovo contagio. Dunque, dall'inizio dell'emergenza coronavirus ad oggi, nella nostra provincia sono 635 casi di contagio. 27, invece, dall'inizio del mese di luglio e di quest'ultimi, 7 sono riusciti a sconfiggere il virus. Intanto l'asle di Avellino non abbassa la guardia e fino al prossimo 7 ottobre le quattro unità mobili saranno attive per l'assistenza a domicilio. Per quanto riguarda la campagna, invece, l'unità di crisi regionale ha comunicato che su 1.555 tamponi processati 14 sono risultati positivi al covid-19. Il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza sanitaria in campagna è di 4.926, mentre il totale dei tamponi processati è di 324.552. Il totale dei deceduti è 434, mentre il totale dei guariti è 4.127.